Action. Adrenalina. Reti. Big saves. Emozioni. Dal 6 al 14 gennaio 2024, la Svizzera ospiterà il campionato del mondo femminile under 18 I.I.H.F. 2024. Non perderti le avvincenti partite a Zugo, tra le 8 migliori nazionali femminili under 18, in lotta per il titolo di campione del mondo. Assicurati il tuo biglietto d'ingresso su S.I.H.F. punto C.H. slash Ticketmaster.